allora buongiorno a tutti oggi facciamo un piccolo video che riguarda la resina e altri elementi che vengono utilizzati con essa allora quello che vedete qua sotto è un tappetino che io ho fatto con la GLS Pro Ventishore della Prochima versandone una discreta quantità sul coperchio di una scatola per le scarpe perché necessitavo di un tappetino di gomma siliconica inoltre ho creato questo stampo, non so se riuscite a vederlo a forma di semi uovo è come se ci fosse la metà di un uovo capovolto perché ho bisogno di realizzare questo tipo di forma poi quelli che vedete adagiati su questo tappetino sono degli elementi che io ho fatto con degli stampi tipo questo acquistati da Aliexpress allora non li riempio tutti perché non ho bisogno di al momento di pezzi così grossi vi spiego brevemente come ho raggiunto queste colorazioni, questi effetti allora questi tre sono fatti da resina pigmento fluorescente e inchiostri all'alcol alcol ink di questa marca pentart allora io ne ho comprati sette da un sito di cui non ricordo il nome e se posso dirvi la mia non vanno bene per il risultato che volevo ottenere ossia il petri dish piccola parentesi io non avevo capito fin tanto che non ho trovato il video adatto non avevo capito che per fare, per ottenere il risultato dalla tecnica petri dish era necessario acquistare il colore bianco non l'avevo assolutamente capito tramite un video di Archidee dove specifica anche il perché c'è bisogno del pigmento bianco ho fatto un acquisto al sito Le Bimbi dove mettono in vendita questi inchiostri all'alcol pignatta mi sembra che si chiama il nome scusate se non me lo ricordo e ho preferito acquistare quelli lì oltre a due confezioni di bianco anche perché questi qui mi sembra che non siano sufficientemente pigmentati inoltre vedete dov'è il pigmento e per quanto uno li agiti e tra parentesi spesso esce l'alcol da qua il pigmento resta qui per cui quando andiamo a versare le gocce è più alcol che pigmento forse anche per questo motivo che non c'è stato quel risultato che speravo di ottenere questi sono altri esempi qui avevo anche messo un pigmento sempre preso dalle Bimbi pigmento AB mi sembra che era questo qua e qui ho aggiunto anche dei brillantini dei glitter che si sono andati a depositare sul fondo allora io al momento queste qui erano delle prove e le ho al momento le metto vicino ad una lampada che ho che dentro ci sono delle lucine per cui qualche riflesso tipo ecco queste cose qui queste rifrangenze qui si vedono per cui io questa marca ve la sconsiglio e mi raccomando comprate il bianco se io l'avessi saputo prima non avrei acquistato questi perché nei colori disponibili il bianco non c'era quindi veniamo all'ultima cosa che sto sperimentando che è questa specie di mosaico fatto appunto su questo tappetino con le perline e la resina allora io ho voluto utilizzare la goccia per vedere se una volta a capovolto il mosaico diciamo veniva fuori un risultato interessante sì potrebbe essere interessante ma non è quello che serve a me ecco diciamo così e a parte qui c'è un buco ah vabbè comunque preferisco questo immaginate che la goccia non ci sia perché faccio questi mosaici non per fare dei gioielli ma perché la mia intenzione è quella di fare delle delle installazioni con sul tema della dell'architettura persiana ecco per cui ho bisogno di determinati elementi determinati colori delle cupole delle trasparenze mi è venuta in mente questa cosa io ho ben chiaro in mente quello che vorrei fare sto cercando di capire come arrivare al risultato finale che ho in testa scusate le mani completamente distrutte e e questo è quanto ho posizionato le perline su questo tappetino che è molto fa molto attrito molto vischioso per cui una volta posizionate le perline per spostarle è veramente un'impresa dopodiché ho colato la resina qui ci avevo messo dei pigmenti ma non è il colore che serve a me diciamo era soltanto per per vedere un po' come come si posizionava se la resina andava sotto sotto le perline e va bene si stacca facilmente anche perché lo spessore è minimo il tappetino il 20 shore è molto morbido e per cui continuerò su questa su questa ondata creativa ecco se qualcuno di voi ha già provato a fare questo tipo di lavoro magari dentro un cerchio di metallo insomma al di là delle inclusioni solite bombate che spesso vedo fare io ho proprio bisogno di questo risultato penso che così possa andare proprio come fosse una pavimentazione ecco ci siamo capiti per cui mentre aspetto che mi verrà consegnato il pacco delle bimbi io vi saluto spero che che vi possa interessare anche questo filone e alla prossima ciao ciao ciao